Lo sapevi che la cucina italiana genera un mercato di più di 229 miliardi di euro all'anno e inoltre quella con il maggior potenziale di crescita all'estero, seguita dalla giapponese e dalla francese. Questo è il risultato dello studio Italian Cuisine Market Monitor, condotto da Deloitte nel 2019. Del totale solo 39 miliardi sono stati realizzati all'interno del nostro paese, rendendo l'Italia solamente il terzo mercato al mondo. Il primo mercato della cucina italiana è la Cina per un valore di 71 miliardi, seguita da Stati Uniti con 69 miliardi. In un certo senso sono orgoglioso dell'importanza della gastronomia italiana nel mondo. Sono però anche in... arrabbiato perché la maggior parte dei profitti non finiscono nemmeno in tasche italiane. Cosa dovremmo fare per sfruttare questo mercato affinché il nostro paese ne benefici di più?